Il Palazzo Carducci Artenisio Purtroppo la vicenda di cui vi parlerò vi fa capire l'incapacità dell'amministrazione comunale di Taranto, del sindaco Melucci, dell'amministrazione Melucci, lato senso intesa, in toto, che non riesce a poter mettere mani ai lavori di ristrutturazione, di riqualificazione, pur essendoci, dopo mille peripezie, un finanziamento CIS. Assurdo, tu hai tutti i finanziamenti, puoi ristrutturare, riqualificare, ti fermi. Perché? Perché c'è appunto all'interno, c'è una famiglia, ci sono delle persone che abitano, in base ad un titolo pregresso, a una situazione ereditata e quindi sono lì all'interno. L'amministrazione non riesce a poter eseguire questi lavori finanziati. è balbetta, brancola nel buio e sentiamo dire ma come dobbiamo fare, ma come si può fare, ma c'è questa famiglia dentro. Già che era stata prospettata questa famiglia l'ipotesi di occupare un altro alloggio, almeno per tutto il periodo in cui si ristrutturasse il palazzo, oppure anche farli rimanere assumendosi la famiglia, ovviamente i rischi, le responsabilità appunto della loro permanenza durante l'esecuzione dei lavori. Ma c'è un fatto ancora più grave, l'amministrazione comunale, evidentemente il sindaco, non conosce le normative, non conosce quelle che sono le sue prerogative, quello che lui potrebbe fare subito per far sì che questi lavori abbiano finalmente inizio. Sindaco Melucci, uffici tecnici, sapete che il primo cittadino, un sindaco, può emettere, può e deve in questo caso emettere un'ordinanza per lavori urgenti ed imprescindibili legati alla pubblica e privata incolumità? Lo sai Melucci che esiste questa normativa? Lo sapete voi uffici tecnici? E lo sapete che c'è il codice dei beni culturali che consente questi interventi urgenti? Ma stranamente l'amministrazione comunale sembra non conoscere queste facoltà, queste potestà che ha il sindaco e il sindaco sta così a guardare le stelle, a sfogliare la margherita quando iniziamo, quando non iniziamo, quando iniziamo, quando non iniziamo, quando invece si potrebbe iniziare subito anche perché non è che poi se non si inizia va a finire che perdiamo questi finanziamenti e poi qualcuno deve pure rispondere davanti alla Corte dei Conti. Quindi tranquillamente, qui si può tranquillamente, si possono iniziare i lavori, il sindaco emette l'ordinanza e la famiglia deve rispettare l'ordinanza, l'ordinanza che in base alla quale la famiglia, ripeto, potrà andare in un altro alloggio che è stato messo a disposizione dall'amministrazione comunale. Ma non è che si rimane qui bloccati con un finanziamento, perché? Perché il sindaco non ha la forza di emettere questa ordinanza. E così dobbiamo far crescere la città vecchia? E così dobbiamo valorizzare il nostro patrimonio storico, culturale, artistico? E così dobbiamo fare turismo? Sindaco, dati una bella spolverata a quelle che sono le tue facoltà. Ti ho dato un input, questo tipo di ordinanza, emettila. Perché tentenni? E così dobbiamo fare turismo.